Benvenuti all'oroscopo di oggi. Cosa ci rivelano le stelle oggi? Scopriamo insieme i messaggi e i segreti che gli astri hanno in serbo per noi. Siete pronti a esplorare il vostro destino cosmico? Segno ariete. Una giornata straordinaria è alle porte. Sarete in grado di compiere passi da gigante nei vostri progetti a lungo termine e in varie altre situazioni legate alla sfera affettiva. Sarà il momento ideale per concordare con il partner un passo significativo nella vostra vita e intraprendere insieme un cammino che vi porti gioia. Se siete single, troverete grande felicità in compagnia di chi vi fa stare bene, poiché sentimenti positivi vi doneranno attimi indimenticabili di contentezza e tranquillità. Inoltre, sul fronte professionale, lavorerete con entusiasmo non solo per la retribuzione, ma anche per gli ottimi rapporti instaurati con i superiori. Ciò renderà la giornata estremamente positiva. Per gli arieti, oggi l'amore è al centro dell'attenzione. Le coppie vivranno momenti di intensa complicità con il partner, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno di speciale. Sul lavoro, non manca l'energia, è il momento ideale per proporre nuove idee e progetti, che verranno accolti con entusiasmo. La fortuna sorride agli arieti, mantenete la concentrazione e cogliete l'attimo, poiché potrebbero presentarsi opportunità inaspettate. Segno toro. I tori dovrebbero concentrarsi sulla comunicazione per rafforzare le loro relazioni. Risolvere le incomprensioni sarà essenziale. I single potrebbero riscoprire vecchie fiamme. Sul lavoro, è necessaria una buona dose di concentrazione. Potrebbero emergere piccoli ostacoli, ma con determinazione e pazienza li supererete. Anche se ci sono alcune sfide, la fortuna è dalla vostra parte e un po' di perseveranza può portare a grandi risultati. Il legame di coppia si rafforzerà, tanto che alcuni di voi inizieranno a valutare progetti seri per l'anno a venire. Nel frattempo, sarà cruciale prendersi cura della relazione con tutto l'amore di cui siete capaci, il partner ne avrà davvero bisogno. Per i single, dopo numerose delusioni, giungerà finalmente una giornata tutta da assaporare. Avrete molteplici opportunità di fare nuove conoscenze e stringere amicizie interessanti, forse persino di spingervi oltre la semplice gioia di un flirt. Sul versante lavorativo, la vita scorrerà serena, noterete che l'aspetto più gratificante sarà il rapporto positivo e affettuoso vissuto con i colleghi. Segno gemelli. L'oroscopo del giorno 24 mette in tavola una giornata stupenda. Venere vi favorirà con influssi benefici, rendendo la relazione con la persona al vostro fianco appagante e più vivace, orientata al rinnovamento. Siate fiduciosi e positivi nel tentativo di rinvigorire o migliorare l'intesa di coppia. Se siete single, nulla potrà ostacolarvi, già di norma affrontate le situazioni con grande intensità, ma in questa giornata sarete una tempesta, con il rischio di travolgere qualcuno con un'azione davvero intrigante. Sul piano lavorativo, godrete di momenti di realizzazione e gratificazione personale, raggiungendo risultati eccellenti che vi faranno sentire realizzati e stimati. Per i gemelli, l'amore è leggero e divertente. I single godranno della compagnia degli amici, mentre le relazioni esistenti si rafforzeranno. Sul lavoro, tutto procede con regolarità e costanza. È un buon momento per collaborare con i colleghi su progetti di gruppo. La felicità è moderata ma positiva. Restate ottimisti e le cose andranno bene. Segno cancro Per ravvivare la passione, forse recentemente un po' essopita, cercate una ventata di aria fresca e qualche novità. Potrebbe trattarsi di una fuga d'amore con il partner o una semplice uscita al cinema o al ristorante preferito, giusto per trascorrere del tempo in serenità. Se siete single, date un nuovo ritmo alla giornata, dedicandovi a diverse attività. Trascorrete del tempo di qualità con gli amici più cari, godendo della loro compagnia e del sostegno reciproco. Sul fronte lavorativo, affronterete sfide stimolanti e coglierete nuove opportunità. Dimostrando competenza e impegno, di cui certamente siete dotati, otterrete apprezzamenti da colleghi e superiori. I cancro vivranno una giornata con alti e bassi in amore. È essenziale mantenere la calma e non agire d'impulso. La giornata lavorativa sarà impegnativa ma produttiva. Concentrate le vostre energie sui compiti più importanti ed evitate le distrazioni. La felicità vi aiuterà a risolvere i piccoli problemi quotidiani. Fidatevi del vostro intuito. Segno leone. Per il leone, l'amore è sinonimo di passione. Le coppie vivranno momenti di grande intensità, mentre i single potrebbero vivere incontri travolgenti, talvolta veri e propri colpi di fulmine. Sul lavoro, si richiedono leadership e determinazione. Non temere di prendere decisioni importanti, la fortuna è al tuo fianco, specialmente nel campo finanziario. Gli investimenti e le scelte economiche sono prioritari. In amore, anche se non ci sono conflitti evidenti, non date per scontata la lealtà del partner. Osservate attentamente il suo comportamento, poiché un sorriso potrebbe nascondere intenzioni poco trasparenti. La comunicazione aperta è fondamentale per trovare soluzioni che soddisfino entrambi e ripristinino l'armonia nella relazione. Per i single, è il momento di riflettere sui propri sentimenti più profondi e sulle esigenze interiori. Trovate la serenità necessaria per affrontare la vita quotidiana senza stress eccessivo. Sul lavoro, potreste avere qualche difficoltà nell'ammettere i vostri errori, specialmente di fronte ai colleghi. È importante cercare di dare una possibilità di dialogo e comprensione reciproca. Segno vergine. L'oroscopo di domani 24 giugno preannuncia un'energia positiva per coloro che vivono una relazione amorosa appagante. La giornata sarà ricca di sorprese intriganti, facendovi apprezzare la gioia di avere un partner che vi sostiene in ogni circostanza. I single potranno godere di conversazioni intense con una persona interessante, e i più audaci potrebbero persino dare il via a un flirt. Seguite il vostro cuore nelle questioni sentimentali, senza lasciarvi influenzare dalle opinioni altrui. Inoltre, potreste ricevere apprezzamenti per il vostro impegno e la vostra abilità nel superare situazioni complesse. I nati sotto il segno della vergine trovano stabilità nelle relazioni amorose. Le coppie consolidate si rafforzano e i single hanno l'opportunità di incontrare persone interessanti. Sul lavoro, precisione e attenzione ai dettagli sono fondamentali. Evita decisioni affrettate. La fortuna è moderata, mantieni il focus sui tuoi obiettivi a lungo termine, sei sulla strada giusta e non lasciarti distrarre. Segno bilancia. L'inizio della settimana si prospetta eccellente per molti nativi. In amore, vedrete tutto attraverso una lente rosea, con sogni romantici pronti a realizzarsi. La vostra mente sarà positiva e ottimista verso le persone e le situazioni. Romantici e sognatori, vivrete una giornata idilliaca con la persona amata. I single non avranno motivo di dubitare, le dichiarazioni di rispetto e fedeltà che riceveranno saranno sincere. Questa giornata sarà equilibrata e gratificante per le relazioni affettive, grazie anche al sostegno di un'amicizia premurosa. Sul fronte lavorativo, con un po' di impegno, potreste risolvere una questione in sospeso o riprendere una trattativa d'affari importante. Per la bilancia, l'amore si traduce in armonia, complicità e comprensione. È il momento ideale per lasciar andare le tensioni e trovare un equilibrio. Sul lavoro, sarà richiesta una buona dose di diplomazia. Le tue capacità di mediazione saranno cruciali nella risoluzione delle controversie. La fortuna è al tuo fianco, specialmente nelle relazioni interpersonali. Sfrutta le tue abilità sociali. Segno Scorpione. L'inizio della settimana si prevede piuttosto critico. Molti di voi potrebbero lasciarsi trasportare dalle vicissitudini quotidiane, innescando discussioni futili e potenzialmente rischiose. Se ciò accade, aspettatevi abbondante stress e nervosismo, condito dalla rabbia della persona coinvolta. Le previsioni di lunedì, per quanto riguarda l'amore, consigliano di mantenere le distanze da situazioni pericolose. Potrebbero sorgere difficoltà nel portare a termine la routine, concedetevi brevi pause di riflessione. I single, gestendo con intelligenza le situazioni critiche, riusciranno a evitare figuracce. Dato il cielo poco favorevole, si raccomanda prudenza in ogni vostra azione. Nel lavoro, armatevi di determinazione, rimanendo fermi nelle vostre posizioni. Lo Scorpione vivrà una giornata intensa in ambito amoroso. Anche se sei un segno appassionato, cerca di evitare di diventare troppo possessivo. Sul lavoro, impegno e dedizione sono fondamentali. Evita discussioni che potrebbero portare a conflitti e concentrati sulle tue attività. La fortuna è variabile e affronta le sfide con calma e determinazione, senza prenderti più di quanto puoi gestire. Segno sagittario. L'oroscopo del 24 giugno prevede un lunedì estremamente produttivo e positivo, oltre ogni aspettativa. In amore, l'idea di un viaggio vi riempirà di entusiasmo, siete pronti a organizzare un itinerario unico e appassionante? Se la vostra relazione è già soddisfacente, le stelle vi promettono una serata straordinaria insieme al partner. I single, grazie alla luna in acquario, saranno più fiduciosi e capaci di sdramatizzare situazioni complicate. Sarete disposti ad ascoltare e sostenere chi ne ha bisogno, mostrando grande empatia. Nel lavoro, gli astri vi offriranno opportunità favorevoli per realizzare alcune delle vostre aspirazioni. Grazie alla determinazione e all'intuito, potrete concretizzare progetti ambiziosi. Stai vivendo l'amore come un'avventura entusiasmante. Le coppie potrebbero pianificare entusiasmanti gite ed esplorazioni, mentre i single hanno voglia di godersi la loro libertà e intraprendere nuovi percorsi. Il lavoro è fonte di grande eccitazione. Potresti imbatterti in una nuova opportunità, che saprai cogliere al volo. La fortuna è dalla tua parte e le tue decisioni porteranno a risultati positivi e gratificanti. Segno Capricorno Una giornata stabile, all'insegna della solita routine positiva. Lunedì sarà una giornata favorevole per molti di voi, specialmente in ambito affettivo e sentimentale. Le stelle vi renderanno brillanti e ricchi di idee interessanti. Non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità, le possibilità di successo sono discrete. Nelle relazioni di coppia, la situazione sentimentale è in evoluzione, evitate di dare tutto per scontato e non fate piani a lungo termine. I single dovrebbero abbandonarsi all'amore senza remore o tabù. Un'amicizia di lunga data potrebbe trasformarsi in qualcosa di più significativo. Nel lavoro, fate delle verifiche prima di prendere decisioni impegnative. Le influenze planetarie solleveranno il morale, siete sulla strada giusta. La comunicazione è fondamentale per il Capricorno in questo momento. È importante essere aperti e onesti con il partner, esprimere i propri pensieri e sentimenti senza timore. La giornata lavorativa sarà produttiva e i tuoi sforzi non passeranno inosservati. I tuoi superiori e colleghi apprezzeranno il tuo impegno. La fortuna è moderata, ma ciò non deve distogliarti dai tuoi obiettivi. Resta concentrato e determinato. Segno acquario. La luna nel segno porta molta positività in amore. Lunedì sarà quindi una giornata all'insegna dell'amore e dei sentimenti autentic. Un corpo di fortuna potrebbe guidarvi, suggerendo modi alternativi ed entusiasmanti per soddisfare il partner o ravvivare un'intesa di coppia traballante. Sul piano sentimentale, sarete pieni di energia positiva, trasmettendo vitalità alla relazione. Incoraggerete il partner a partecipare ai vostri progetti di vita, ricevendo consigli preziosi. Le stelle prevedono influenze stimolanti, in grado di liberare una grande fantasia. I single dovrebbero fidarsi delle proprie sensazioni, che li guideranno nelle scelte migliori. Un viaggio vi permetterà di divertirvi e ricaricare le energie. Nel lavoro, saprete rispondere alla richiesta di rinnovamento, proponendo soluzioni innovative. L'amore riserva sorprese inaspettate per l'acquario. Preparati a vivere momenti imprevedibili e accogliere le opportunità che si presentano. Sii ottimista e affronta le sfide con entusiasmo. Il tuo lavoro richiede creatività e innovazione. Usa la tua immaginazione per risolvere i problemi e proporre nuove idee. La fortuna ti sorride, soprattutto nelle nuove iniziative. Abbandona le incertezze e procedi con coraggio e fiducia. Segno pesci. L'oroscopo di lunedì 24 giugno suggerisce la possibilità di vivere un periodo discreto. Nonostante qualche rischio nascosto, la giornata nel complesso risulterà sicuramente positiva. Le previsioni indicano un andamento altalenante nelle relazioni di coppia, con un buon inizio che potrebbe affievolirsi nella parte centrale e finale della giornata. Tuttavia, il lato sentimentale in generale non ne risentirà molto, potreste ricevere una bella notizia o una sorpresa dal partner, con piccoli momenti di gioia. I single dovrebbero organizzare un incontro con gli amici per il fine settimana, stare in compagnia vi aiuterà a mettere in secondo piano eventuali problemi. Nel lavoro, imparate a giocare d'anticipo per ottenere ciò che desiderate. Oggi sarà una giornata all'insegna del romanticismo per i pesci. La passione è importante, ma la tua relazione ha bisogno di dolcezza, tenerezza e amore incondizionato. Il lavoro procede senza intoppi e questo è il momento ideale per pianificare e organizzare i tuoi progetti. Le stelle sono favorevoli e la fortuna è dalla tua parte. Approfitta di questa opportunità per realizzare i tuoi desideri e cogli le occasioni che si presenteranno.